Non poteva mancare una delegazione della Banca del Cilento di Sassano e Vallodidiano e della Lucania a Firenze in occasione della quindicesima convention di idee, l'Associazione delle Donne del Credito Cooperativo. Impact People, l'impatto delle donne, il titolo dell'evento che si è svolto presso la Camera di Commercio di Firenze e che è stata l'occasione per ripercorrere i tanti traguardi raggiunti in questi primi 15 anni di attività. Un trend molto positivo che vede anche il 2019 chiudersi con una rete di donne, uomini e aziende in espansione che condividono le loro energie per valorizzare il contributo femminile nel mondo del credito cooperativo. A rappresentare la Banca del Cilento, una delegazione guidata dalla vicepresidente Rosa Lefante e da Maddalena Fortunato, coordinatrice per la Basilicata di Idee. Sotto i riflettori dunque le donne nell'universo del credito cooperativo dove le esperienze di cooperazione e mutualità si intrecciano con il valore della diversità di genere e con l'impatto delle donne in ambito scientifico, accademico e lavorativo. Un tema particolarmente attuale e importante in una nazione come l'Italia nella quale il tasso di occupazione femminile resta tra i più bassi d'Europa. Non ha voluto mancare all'appuntamento il ministro della Famiglia e delle pari opportunità Elena Bonetti ad ulteriore conferma della meritoria opera di Idee, associazione fondata su impulso di Federcasse nel 2004 e che conta oggi numerosissimi soci con ruoli diversi all'interno del credito cooperativo. E tra le tante testimonianze particolarmente significative è stata quella della ricercatrice Laria Capua che ha abilmente illustrato la sua esperienza di brillante professionista costretta a trasferirsi all'estero per portare avanti il suo sogno.